Ciao dolcezze, come sicuramente avrete visto dal titolo del video e dall'intro oggi ho pensato di realizzare una nail art ispirata al nuovo video, alla nuova canzone di Katie Perry allora, in questo video sfoggiano tre nail art, almeno io ne ho viste tre bellissime all'inizio del video Katie Perry sfoggia una nail art, una border manicure, blu e nera mi sembra io l'ho già fatta tempo fa e vi lascio il link qui del video per andare a vedere il tutorial verso metà video invece, sempre Katie Perry sfoggia una nail art praticamente con il monocolore nero e sopra la croce egiziana io tempo fa feci una nail art simile e vi metto sempre qui il link per andare a vedere il tutorial infine la terza nail art che ho visto è questa qui che ho realizzato oggi è praticamente una nail art con un monocolore oro glitterato e un french particolare turchese quindi se volete vedere come ho realizzato questa nail art e come avere le unghie in stile Katie Perry seguite il mio tutorial, un bacione! come primo passaggio ho applicato la base smalto laccata di Gamax ora faccio un monocolore oro glitterato con questo smalto di Revlon il numero 146 per creare questa french molto particolare utilizzo uno smalto turchese con il pennellino fine allora un trucchetto molto semplice per realizzare questa french è creare tre puntini guida due ai lati delle unghie mentre uno vicino al margine libero così quando andremo ad unire le linee con il pennellino fine saremo più precise e la french verrà perfetta e iniziamo a vedere come se stai a fare un'altra una volta asciutto lo smalto alla perfezione applico il top coat e utilizzo questo di Gamax e questo è il risultato finale spero con tutto il mio cuore che vi piaccia io appena l'ho vista nel video di Katy Perry questa nell'art mi sono innamorata e ho pensato appunto di ricrearla per voi come avete visto è molto semplice da realizzare non ci vuole tantissima manualità però un po' di pazienza appunto per cercare di fare le linee dritte i puntini guida diciamo che sono un trucchetto per essere più precisi nulla come sempre in un commentino fatemi sapere cosa ne pensate io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video ciao